Ce la metterò tutta e sono arrivato dove sono arrivato attraverso i duri allenamenti e gli incoraggiamenti del mio maestro. Spero di vincere, darò il massimo, il 110%. Quante ore al giorno ti alleni per arrivare così in alto? Mi alleno per due ore al giorno. L'avversario più pericoloso che affronterai? È un pugile siciliano. Francesco, passando a te, perché il suo maestro sovracitato sei tu, questi campionati quanto sono importanti? Sono i campionati italiani, ma quanto lustro danno a questa città e soprattutto all'autopalestra? E poi ci hai detto che oltre a lui c'è tantissimi altri ragazzi che si allenano e sono veramente in gamba. Sono molto importanti perché chi vince i campionati italiani tocca la nazionale. Vanno in nazionale e tra pochi mesi ci sono i mondiali e quindi rappresenteranno l'Italia nel mondo. È un bel traguardo, è un bel trampolino di lancia per quanto riguarda questi ragazzini di 13-14 anni. E poi ci sono altri ragazzini che l'anno prossimo porterò e speriamo di almeno eguagliare i risultati che fa Mattia e portare a casa il titolo italiano. Tu sei un insegnante e loro sono molto piccoli. Io mi chiedo, ma un genitore che spinge un ragazzo a fare uno sport così bello, ma comunque particolare, soprattutto per una mamma che vede un suo figlio fare appugni sul ring, cosa ti dicono i genitori? Se ti danno qualche raccomandazione o qualcosa, tu che rapporto hai? Io ho un po' un rapporto di conflitto con loro. Però se capiscono che il pugilato non è violenza, vedi che li lasciano venire con molto piacere. Perché il pugilato ti rende, a parte che ti rende uomo, ma ti forma molto caratterialmente. E questi ragazzini, io mi riferisco specialmente a ragazzini bulli, che vogliono fare, pure nella scuola vogliono fare i bulli, il pugilato li calma moltissimo perché sfogano tutta la loro rabbia e aggressività in palestra. E li aiuta molto caratterialmente. A volte dicono, chi fa pugilato è violento? Assolutamente no. Anzi, riesce ad ammaestrare, a calmare la propria rabbia. Riescono ad essere molto più calmi perché sanno a fare a cazzotti e sanno difendersi, tra parentesi. Ciao Mattia qui, gli devi dare un consiglio, tu che hai fatto boxe anche ad alti livelli. Si trova sul ring contro tre dei più forti boxer d'Italia. Che gli dici? Di dare il massimo. A me non interessa che vinca, certamente è molto importante che vinca, però è che scende dal ring e ha dato tutto. È la cosa più importante perché non abbiamo rimpianti, perché abbiamo dato tutto, ci siamo confrontati con i più forti d'Italia e se va bene, va bene. Io credo che varrà molto bene perché Mattia è un ragazzo molto intelligente, va bene a scuola, è la cosa fondamentale. È molto intelligente, è un ragazzo che si allena e fa sacrifici. E chi fa sacrifici prima può ottenere risultati.